A mattino, campanano, dormi tu, dormi tu, suona le campanze. Din don dan, din don dan. Ma perché sei cattiva oggi? Non sei cattiva? Non c'è nessuno. Dunque questa borsa è un paio di jeans normali, ma in retro c'è proprio il sedere, proprio il sedere gonfiato. Poi ci sono i particolari che sono meravigliosi, non so quanti anni ha. Saint-Tropez, questo è cuoio. Saint-Tropez è pesantissima. Io credo che questa borsa non la darei via neanche, non so, perché qualsiasi cosa al mondo. E' scomodissima, questo è l'interno. Sto tirando fuori le borse perché non mi trovo una baguette di Fendi del 2000 con le perline. E la cosa mi dà molto, ma molto, fastidio. E i jeans sono... Ma come poterlo andare in spiaggia con una cosa così pesante? No, non c'è andata la mia spiaggia. Non c'è andata l'aperitivo. Non c'è andata la mia spiaggia. Non c'è andata la mia spiaggia, non c'è andata la mia spiaggia. 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 torta di mele così, buonissima, qui c'è la mela, ok, queste sono pannine come se fossero le piccole bignè, dei piccoli bignè, leggermente caramellati, qui dentro c'è un gelato, una bella cena questo, e qui c'è una scoglia, sfoglia, perfetto, è giapponese, in pratica c'è molto di macchina, però non ho preso il macchina, è veramente buono, una parte a sottotitola, è la terra, nulla è veritare, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.